Buongiorno a tutti, benvenuti alla nostra consueta pillola sull'indice di Milano in due minuti, settimana positiva quella che si è appena chiusa sui mercati, Milano con il suo più 5,12 ha registrato una buona performance, le prime due sedute della settimana, lunedì e martedì come vedete erano rimaste all'interno del range della candela di venerdì scorso, poi la differenza l'ha fatta l'apertura in gap up di mercoledì, varie le motivazioni, vi era stata una buona chiusura a Wall Street, erano partiti bene gli indici in Asia dopo la debacle del giorno precedente, però poi non si è dato seguito, ci stavano anche rumors su possibili incontri al vertice tra Putin e Zelensky, ma alla fine è rimasto solo un rumor, quindi la buona seduta di mercoledì praticamente è stata anche il valore che è stato mantenuto poi fino a fine settimana. È rimasto il gap aperto, nonostante l'over shadow di giovedì e venerdì, vedete non si è riusciti a chiudere questo gap, importante però che nonostante l'escursione di venerdì poi si sia andata a chiudere verso i massimi della candela, quindi siamo tornati a qualche centinaio di punti dal 24-5-58, quindi la resistenza decennale del 2009, se dovessero esserci notizie positivi o comunque in ogni caso non dovessero uscire nuove ulteriori notizie negative, chiaramente ormai il mercato ha apprezzato il discorso guerra e guardando avanti non può che cercare di vedere un cessato il fuoco e quant'altro. Pertanto Milano è attesa al test dei 24-5-58, superato il quale si proietterà verso i 25-5 che sono stati il massimo prima della discesa del Covid. Naturalmente se dovessero esserci notizie negative la prima cosa sarà la chiusura del gap e poi si dovrà tornare al test dei 23.000 punti. Con questo è tutto, vi auguriamo una buona domenica, se l'analisi vi è piaciuta ci è gradito un like, buona domenica!